Presidente, ad ora arriverà il nuovo DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cosa si sente di dire? Insomma, agli abruzzesi si parla tanto di coprifuoco, di restrizioni, ma ci sono delle differenziazioni tra regione e regione. Le regioni avevano chiesto al Governo di fare un decreto che fosse omogeneo su tutto il territorio nazionale, perché non ci sono grandi differenze tra tutte le regioni, la situazione è critica in tutta Italia, c'è una curva che sta crescendo in maniera esponenziale. e la cui crescita dà anche poco tempo alle regioni che stanno un po' meglio, un po' meno peggio di arrivare in condizioni di maggiore criticità. Quindi adesso vedremo nel DPCM cosa c'è scritto. Agli abruzzesi dico che bisogna rispettare le regole, bisogna prendere tutte le precauzioni, essere molto attenti e la circolazione del virus con l'arrivo dell'autunno è tornata ad essere molto intensa dovunque, l'intera Europa oggi è in ginocchio e di fatto in confinamento e l'Italia che stava un po' meglio rispetto al resto d'Europa sta rapidamente arrivando alle stesse condizioni. Lei pochi giorni fa, poche ore fa aveva lanciato un allarme un po' sulla questione dei posti letto. Nella nostra regione c'è una saturazione? Qual è la situazione e quali sono le prospettive? Io ho detto con chiarezza che sono finiti i posti riservati alle malattie infettive, non che sono finiti i posti dentro gli ospedali. Negli ospedali posto c'è, posti per terapie intensive, subintensive, per la non normale cura, diciamo la cura di bassa intensità. Purtroppo trattandosi di malattie infettive non sono malati che possono mischiarsi con altri e quindi abbiamo dovuto adottare le misure che si sono adottate già in molte regioni, in quasi tutte le altre regioni d'Italia, che sono state già adottate durante la prima fase, cioè quella di rinviare le cure e gli interventi procrastinabili, quelli che possono essere rinviati senza procurare troppo danno ai pazienti, per liberare nuovi spazi e nuovi reparti e continuare ad ospitare e a ricoverare le persone contagiate che hanno bisogno di cure. Tutte ovviamente verranno ricoverate e tutti quelli che hanno bisogno di cure ospedaliere troveranno spazio nei nostri ospedali.